seconda parte di questo meraviglioso stand guardate ora ci sono un sacco di prodotti non solo da guardare ma anche da mangiare questa è la pittachina poi ci sono i peperoni secchi sott'olio il salame vedete tutto made in calabria guardate che meraviglia cos'è quella anduia giusto l'anduia e poi c'è del formaggio francesca che formaggio è questo sembrerebbe una ricotta il primo sale ecco vedete qua c'è l'ubbuculario che si può mangiare anche quei pinoli che ci sono anche delle coltivazioni a sfilinga di pinoli particolari guardate meraviglia i pomodori sembra di plastica ma in realtà sono veri